Linda, primi allenamenti qui in Francia, l'emozione che cresce, come ti stai avvicinando tu a questo esordio mondiale? Allora, sì, ieri siamo arrivate e ci siamo allenate al pomeriggio, abbiamo fatto un ottimo allenamento, siamo tutte davvero concentrate, mancano davvero pochissimi giorni e siamo tutte emozionatissime e non vediamo l'ora. Fino a qualche giorno fa non avevo ancora realizzato bene quello che stiamo vivendo e quello che vivremo, sono emozionata e spero di dare il mio contributo insieme alle mie compagnie per fare meglio. Entriamo nello specifico del girone, Australia, Jamaica e Brasile, cosa temi di più da questi avversari? È un girone molto forte, ci sono squadre come l'Australia che in questi ultimi anni è cresciuta moltissimo, ma noi non sottovalutiamo nessuno e daremo il nostro meglio e anche noi siamo all'altezza delle altre e cercheremo di fare bene.